Eccoci di nuovo qui al nostro appuntamento con una delle star di questo congresso, direttamente dall'Ohio in America, David Williamson. Ciao, ciao, buongiorno a te, qui nel Internet. Guardate tutti questi siti di Internet che ci sono visitati, porn, magica e porn. Interessante. Quali sono le mani? Non voglio parlare. Ok, David Williamson, ti piace un po' di questo? Ci sono fatti qui? Non mi piace, non mi piace la città, e tutti parlano una lingua diversa, e voglio andare a casa. No, buongiorno a te. Mi piace qui. La prima volta in Europa era 29 anni fa, e io ero in un tour di lecture, con un tren, e qualcuno ha detto che c'è una meraviglia conventione in una piccola città italiana, San Vincent. Cosa? Cosa? Ci siamo arrivati? E' stato 1981, credo. Credo che era 1981, e mi ricordo questo hotel, mi ricordo delle belle montagne, delle meraviglie italiane, la città e la magia. e ho conosciuto molti amici qui, questo anno, e è piaciuto vedere molti di loro ancora. Ho venuto molti volte, in Italia, ma non sempre a San Vincent, quindi sono un'ottima ricordata. Un'ottima ricordata. Tu sei probabilmente la più divertente dei grandi nomi che abbiamo. come si presenta il tuo brand di comedia a un pubblico italiano che non parla inglese? Ecco il problema, non è una comedia. Sono un studente serio di arte, e con tutti gli italiani che stanno riuscendo durante il mio show, è un problema, e non mi piace. Non mi piace. Quindi potresti mostrare qualcosa? Non è una comedia, è un attore serio, e gli italiani stanno sempre riuscendo a me. Quindi sono molto freddo con gli italiani. Ok, quindi potresti mostrare qualcosa che è davvero... Questo è quello che ho lavorato. Perché sono un serio sleight of hand man, è un cambiamento di colore. E... ...foola tutti, e è rapido. Siete pronti? Vedete la Queen? Hai una scuola? Ok. Un snap, e si cambia. Ops, mi provo ancora. Ecco. Si cambia, ogni volta che ho snapato i miei fongi le carte cambiano. certo cosa nonoooo 옆 Zoom. Och e poi si cambia. I can... Ho impatto. E io no posso vedere del Vegera! E governing questo siccome è una scuola. Lo troppo sicuro che è una scuola... E lei fa inênile, O earthlymente immaginato, si cambia la lingua. Ops, Gimlicha, Io non potrano mai. I tentamente ... E lei fa inà a pic to noon. Cosa non vazare oggi? Questo è bello, non posso... E questo è l'altra cosa, gli italiani si prendono troppo, sempre toccando e spostando i miei fongi. Sto chiedendo, ovviamente, mi piace qui, e gli italiani sono incredibili, perché sono riusciti a tutti i miei risultati, che è diverso in America, non riusciti a me in America. Non credo, non credo, non credo. Quindi, molti grazie a David Williamson per la sua gentile, e dicendo bye bye! Bye bye, girlfriends and boyfriends all over Italy. Ok, that's great, thank you very much.